Online sulla social tv del Consiglio regionale, nuovi filmati storici dedicati al territorio piemontese grazie a un accordo con l'Istituto Luce. Dopo sport e tradizione no gastronomica della nostra regione, la terza serie è dedicata alle inaugurazioni e alle celebrazioni. I filmati, della durata di circa un minuto e mezzo, sono realizzati tra il 1933 e il 1982.